E' stato raggiunto l'accordo che consentirà l'erogazione delle prestazioni di radioterapia che ricordiamo essere cure salvavita sino al 31 dicembre da parte del Marrelli Hospital di Crotone. L'accordo è giunto al termine di un incontro avvenuto nella sede dell'ASP di Crotone alla presenza del commissario ad acta Saverio Cotticelli, del direttore generale facente funzioni dell'ASP Francesco Masciari, del direttore sanitario facente funzioni Pietro Brisinda e del management del Marrelli Hospital. L'accordo mette fine per il momento ai timori di centinaia di pazienti oncologici del territorio crotonese di doversi spostare in altre strutture più lontane e difficilmente raggiungibili per sottoporsi alla terapia. Nei giorni scorsi infatti il budget a disposizione della clinica si era esaurito. L'azienda sanitaria provinciale e la clinica crotonese hanno sottoposto a Cotticelli alcune ipotesi operative dirette al definitivo superamento delle problematiche rispetto alle quali il Dipartimento regionale Tutela della Salute ha avviato una verifica. Intanto più di 300 candidati al Consiglio Comunale di Crotone appartenenti alle coalizioni di centrodestra e centrosinistra hanno lanciato una petizione popolare per chiedere la fine del commissariamento in Calabria. Non vogliamo più commissari, ma fiducia e risorse sufficienti, si legge nel testo della petizione divulgato alla stampa. Le 15 listre del centrodestra e centrosinistra hanno voluto ricordare ai cittadini che in Calabria la sanità fa acqua da tutte le parti, ad iniziare dai viaggi della speranza, un dato purtroppo ancora altissimo. Basti pensare che ben il 44% delle donne calabresi, per esempio, è costretto a migrare fuori regione per sottoporsi ad un intervento di tumore al seno. La qualità dei servizi è peggiorata. L'entità della mobilità passiva nello scorso anno ha sfiorato i 304 milioni. I tetti di spesa decisi dai commissari non sono consoni anche per quelle prestazioni salvavita che porteranno ad una nuova e pesante emigrazione sanitaria, oltre che a mettere a rischio la vita di tanti calabresi. Ecco i motivi che hanno spinto i 300 candidati a lanciare la petizione. Il governo deve dare dignità al servizio regionale calabrese. Non hanno aderito all'appello le altre due coalizioni in campo, capitanate da Vincenzo Voce e Andrea Correggia.